Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Blitz al porto di Fano, scoperti 13 lavoratori in nero A Marotta un camion si ribalta sulla rotatoria e perde il carico ferroso sulla strada Adesso è ufficiale, al carnevale di Fano si pagherà il biglietto d'ingresso Ma l'opposizione di centro-destra insorge Il campione di nuoto, Filippo Magnini, indagato dalla procura antidoping per uso di sostanze dopanti Ma per quella di Pesero il campione non le ha mai assunte La prefettura di Pesero smentisce, non c'è nessun esposto contro i sindaci sul caso migrato Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV Dunque importante operazione coordinata dalla polizia al porto di Fano Contro il lavoro nero scoperti 13 lavoratori irregolari e due extracomunitari clandestini Uomini del commissariato di Fano, della capitaneria di Porto, dell'ispettorato del lavoro coordinati dal dirigente Stefano Seretti hanno verificato ieri 5 imbarcazioni ed identificate 20 persone scovando 13 lavoratori in nero tra personale imbarcato e di terra e ben due clandestini provenienti dallo Sri Lanka e dalla Tunisia Ma chi sono questi manovali della pesca? Per la maggior parte extracomunitari che svolgono lavori sia a bordo dei piccoli pescherecci che a terra dopo la battuta di pesca nelle operazioni di rimessaggio Basta andare di mattina presto al molo della Marina dei Cesi dove attraccano le imbarcazioni che effettuano la piccola pesca intenti a ripulire le reti dai crostacei o dai residui rimasti impigliati nelle reti Le verifiche dell'ispettorato del lavoro hanno riguardato le 16 posizioni di lavoratori dipendenti di 5 aziende i cui accertamenti sono ancora in corso La pubblica amministrazione ha adottato di conseguenza 5 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale e accertate sanzioni per 40.000 euro Si può tranquillamente parlare di maxi retata nel porto di Fano visto l'elevato numero di unità impegnate oltre una ventina di cui 10 del commissariato fanese, 5 del circomare Fano e 5 dell'ispettorato del lavoro Per i clandestini l'ufficio immigrazione della questura di Pesaro ha avviato le procedure per l'espulsione dal territorio italiano C'è stato un incidente stradale questa mattina in via Mattei a Fano Poco prima delle 8 senza feriti coinvolte alcune auto e un 19enne e un quarantenne Pesanti rallentamenti al traffico a quell'ora di punta e in una zona tra l'altro molto trafficata Siamo nella zona dell'aeroporto, le code hanno raggiunto l'imbocatore appunto dell'aeroporto Sul posto la polizia locale è un mezzo speciale dell'ACI Un altro incidente invece senza feriti è accaduto a Marotta dove un camion si è ribaltato perdendo tutto il carico Questo pomeriggio un camion che trasportava rifiuti ferrosi ha perso il rimorchio mentre percorreva la rotatoria in corrispondenza del casello della 14 a Marotta Sono passate da poco le 16.30 quando il camion della ditta Carfer di Pesaro una ditta specializzata nello smaltimento di rifiuti speciali proveniente dall'entroterra percorre la rotatoria prima del ponte dell'autostrada sulla strada provinciale 424 per immettersi in autostrada Per ragioni ancora al vaglio della polizia locale il rimorchio del mezzo pesante si sgancia e si ribalta sulla carreggiata ed abbatte la recinzione in ferro della rotatoria ed il materiale ferroso viene disperso in gran parte tutto sulla sede stradale Fortunatamente al momento dell'incidente nessun'altra persona o altro mezzo è stato coinvolto ma il traffico ha inevitabilmente subito rallentamenti Sul posto per recuperare il materiale è intervenuta subito dopo una gru speciale addibita al carico dei rifiuti ferrosi e bonificare così in questo modo l'area interessata Per i rilievi e regolamentare il frusso di mezzi sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale di Marotta Che abbiamo argomento? Torna il biglietto d'ingresso al carnevale di Fano la decisione è stata presa dall'ente carnevalesca e sarà in vigore già dalla prossima edizione Fumata bianca Ieri sera abbiamo votato ed è passata l'idea di mettere un piccolo biglietto per sostenere il carnevale di Fano Devo dire che non penso ci siano grossi scompensi per gli utenti perché comunque saranno prezzi assolutamente popolari e per i fanesi una particolare attenzione quindi insomma tranquilli, dormiamo tutti notti serene perché saranno veramente dei contributi piccoli per aiutare il nostro grande carnevale Gestione di tutto questo come avverrà? Come avete pensato di gestire gli ingressi e le entrate? Dunque per quanto riguarda gli ingressi saranno orientativamente quelli dell'anno scorso perché non è che li decidiamo noi ma li decide la prefettura con la differenza che ci saranno delle casse dove appunto saranno fatti i biglietti premetto che ci stiamo muovendo per fare in modo di tenere in cassa il meno contante possibile quindi molte cose andranno online e quindi ecco il lavoro è grosso, c'è una grossa macchina da mettere in piedi quindi ci stiamo lavorando, c'è il nostro consigliere Luca Cardarelli che ha la gestione di tutto questo e insomma il lavoro è grande però contiamo di portarlo a termine con serenità e con successo Il corso del biglietto si può dire? Avete già pensato a una cifra? Ma come si è già detto in varie occasioni parliamo al massimo di 10 euro per l'intero 5 euro per il ridotto e per i fanesi ulteriori agevolazioni quindi parliamo veramente di pochi euro adesso poi ci riuniremo proprio per le piccolezze diciamo e poi dopo vi faremo sapere esattamente ma ecco parliamo proprio di assolutamente per il biglietto intero non più di 10 euro L'introduzione del biglietto d'ingresso al Carnevale di Fano ha provocato già le prime reazioni politiche soprattutto quelle del centro-destra che non potevano che essere negative Carnevale a pagamento ormai il dado è tratto possiamo dire Sì Carnevale a pagamento che possiamo comunque essere a favori perché ormai è una manifestazione che da sola purtroppo e col contributo del Comune non si può sostenere però sicuramente come per tantissime altre cose l'amministrazione arriva in ritardo arriva in ritardo perché noi d'ottobre guarda caso si decide di fare un ingresso a pagamento quando ci sono già tutti gli altri carnevani d'Italia che hanno iniziato la loro promozione e noi ancora non sappiamo da che punto partire quindi sicuramente anche in questo caso sono sbagliati i tempi forse era meglio mettere innanzitutto continuare a fare un'altra edizione gratuita e poi stabilire quali sono le modalità per il 2019 e stabilire anche quali saranno le modalità di ingresso per le famiglie perché sostenere un'unica famiglia magari con due bambini quattro biglietti di ingresso sicuramente è un onere che in questo momento non so se tutte le famiglie sono disposte a sostenere Che cosa non vi sta bene delle dinamiche interne e decisionali all'amministrazione? Dinamiche decisionali perché i famosi tavoli del sindaco e del vice sindaco non portano mai niente di buono come sempre sono in ritardo sulle cose importanti della città ma quello che fa ancora più ridere è che lo stesso capogruppo del PD quindi la maggioranza è contro le scelte prese dal sindaco e dal vice sindaco infatti proprio oggi sui social dichiara che non va bene la scelta del biglietto al carnevale e addirittura scarica le colpe sulla carnevalesca qui il problema non è la carnevalesca ma forse all'amministrazione stessa che dovrebbe credere un po' di più nell'evento principale della città e dare una mano La questione economica comunque della gestione del carnevale e della carnevalesca rimane per voi un punto focale? Certo, abbiamo già convocato quest'anno una commissione con la carnevalesca dove abbiamo verificato una parte dei conti e le spese che hanno sostenuto nel carnevale scorso i conti non tornavano già allora per cui abbiamo deciso e quindi i prossimi giorni convocaremo di nuovo la carnevalesca per capire quali sono i bilanci del passato carnevale ma anche in prospettiva il previsionale che avranno per il 2018 cioè i conti, siccome i soldi sono pubblici, noi bisogna anche sappiamo come vengono spesi i soldi, se i bilanci torano, se i conti sono in pareggio in rosso e quindi in questo caso il Consiglio Comunale ha il ruolo appunto di controllo e di verifica per tutelare i cittadini visto che si spendono comunque soldi pubblici e comunque ricordiamo che parlare di carnevale gratuito non è corretto il carnevale non è gratuito, il carnevale fino ad oggi è stato pagato dal Comune di Fano per la gran parte e dunque dai cittadini che risiedono nel Comune di Fano quindi non è mai stato gratuito e adesso cambiamo argomento perché sono stati presentati i lavori di adeguamento dell'Istituto Scolastico Nuti che diventerà così una scuola più sicura e al passo con le ultime normative in materia antisismica 500.000 euro per farlo come nuovo l'Istituto Nuti di Fano dal 18 settembre sta avendo un profondo adeguamento antisismico delle sue strutture portanti ad eseguire i lavori una società cooperativa di Falconara, la Clea specializzata in questo tipo di interventi che consistono nella camiciatura ed ingabbiamento di pilastri portanti della parte più vecchia della scuola risalente agli anni 70 per resistere maggiormente in caso di sisma alle sollecitazioni di taglio l'ampia collaborazione in questa fase tra le parti sta portando ad un impatto minimo sulle normali attività didattiche in corso con lavori che vengono iniziati e portati a termine aula per aula con la conseguente rotazione delle classi mentre le famiglie degli alunni vengono costantemente aggiornate con comunicazioni della dirigenza scolastica Da subito abbiamo capito che bisogna fare un investimento sia sul patrimonio materiale scolastico sia su quello immateriale Per quello che riguarda quindi il patrimonio materiale gli edifici scolastici abbiamo iniziato a fare un intervento sulla sicurezza sulla vulnerabilità sismica, sulle barriere architettoniche e abbiamo fatto sulla qualità anche delle scuole stesse e ogni anno abbiamo fatto una serie di interventi programmati anche, mi dimenticavo, anche la bonifica dell'amianto nelle strutture scolastiche Poi l'altro aspetto a che mi piace sottolineare anche un investimento immateriale In questo momento c'è un concentrato di progettualità che vede coinvolte anche diverse università che non ha precedenti in questa città Alla fine dei lavori l'Istituto Nuti potrà considerarsi alla luce delle attuali normative vigenti come un fabbricato edificato ai giorni nostri ma non è frutto dell'emergenza o dell'ondata emotiva seguente il sisma dello scorso anno ma bensì di un'attenta programmazione Abbiamo fatto uno studio sul calcestruzzo, sui ferri e abbiamo rilevato alcune criticità che oggi siamo qui a sistemare a rendere perfetta dal punto di vista sismico con un impegno economico anche importante perché si parla di circa 500.000 euro e un'impresa, una direzione lavori che stanno facendo i lavori e in questo contesto stanno rinforzando i pilastri in maniera tale che possano rispondere meglio agli sforzi di taglio Non c'è nessun esposto per diffamazione inviato alla Procura della Repubblica di Pesaro e che riguarderebbe i 13 sindaci firmatari di una lettera inviata al Vice Ministro dell'Interno sulla gestione degli immigrati La smentita è arrivata oggi dalla stessa Prefettura con una nota nella quale si legge inoltre che non è mai stata emessa alcuna comunicazione né agli organi di informazione né ad altri soggetti Il Sindaco Massimo Seri è intervenuto oggi anche per parlare dell'Istituto di Biologia Marina di Fano che dunque riprenderà come sentirete vita e tornerà ad essere un polo formativo e di ricerca e inoltre tornerà ad essere anche un museo dedicato al mare Questo luogo nel quale ci troviamo caro a tanti fanesi ma ultimamente poco animato sta per rivivere una nuova fase? Sì, è una struttura importante fra l'altro frutto di un investimento che la città attraverso il Comune e la provincia hanno fatto e proprio ieri abbiamo avuto un incontro con il Rettore e il suo staff dell'Università di Bologna e abbiamo discusso del futuro di questo edificio di questa struttura, di questo laboratorio e ci saranno forti investimenti sia nella struttura dove l'Università interverrà per sistemarla ma la cosa importante e il valore aggiunto è proprio quella di aumentare l'attività di ricerca che c'è al suo interno ma portarci anche attività didattica attraverso un corso di altissima specializzazione europeo in lingua inglese sulla pesca quindi è un'opportunità straordinaria per la nostra città e c'è anche in prospettiva una collaborazione anche con altre università a cominciare da quella di Urbino e proseguirà il lavoro che è fatto in modo molto importante col professor Piccinetti a cui va il nostro ringraziamento perché è stata una presenza qualificata qui al laboratorio ma io dico nel nostro territorio ma non ci siamo fermati qui c'è anche una collaborazione che vogliamo portare avanti come amministrazione perché c'è la volontà di riaprire anche il museo con gli acquari e renderli fruibili dalla gente quindi questo luogo tornerà ad essere frequentato sia da studenti ma anche aperto alla città quindi una grande opportunità un grande risultato dimostrazione che stiamo guardando anche ad una prospettiva di creare opportunità per i giovani ma soprattutto anche opportunità che possono avere ricadute importante quando ci sono attività di ricerca nascono spin off nascono start up quindi nascono opportunità anche di investimenti lo abbiamo visto anche con la felice scelta che si fece con biotecnologia che ha portato nel territorio risorse importanti brevetti e anche investimenti con degli spin off di nuove attività scientifiche di ricerca quindi soddisfazione soprattutto perché non parliamo di tempi lunghi ma parliamo di tempi brevi una maxi evasione fiscale di oltre 25 milioni di euro e un sequestro preventivo di beni per più di 23 milioni sono questi i numeri dell'operazione Eolo condotto dalla Guardia di Finanza di Chiavenna dal 2014 ad oggi l'indagine ha smascherato un'associazione a delinquere dedita alla realizzazione di frodi fiscali sull'intero territorio della Lombardia accertando il coinvolgimento di 6 persone e 5 cooperative con sede operativa nelle province di Sondrio Bologna, Como, Modena, Parma Pesaro Urbino, Reggio Emilia, Rimini e Roma domenica prossima a Cucurano di Fano si svolgerà la tradizionale festa del crocefisso in preparazione al momento di festa questa sera ci sarà la Via Crucis guidata da Padre Gabriele Perfetti missionario in Colombia mentre sabato verrà organizzato un talent dedicato e organizzato dai giovani della parrocchia domenica invece oltre alla liturgia delle 8, 11 e 16 ci sarà anche la processione alle ore 17 per le vie del paese di Cucurano ed un concerto serale diretto dall'orchestra Fano Fortuna ancora cronaca i nuotatori azzurri Filippo Magnini e Michele Santucci sono indagati dalla procura antidoping di Nado Italia sulla base degli atti dell'inchiesta della procura della Repubblica di Pesaro nei confronti del medico nutrizionista Guido Porcellini la procura Nado a quanto si apprende contesta a Magnini l'uso o tentato uso di sostanze dopanti e il favoreggiamento del codice Vada mentre a Santucci solo il favoreggiamento l'inchiesta riguarda un presunto commercio di anabolizzanti e sostanze contraffatte provenienti dalla Cina alcuni dei prodotti sequestrati però secondo la procura di Pesaro sono stati sì offerti all'atleta in base alle evidenze di indagini ma non risulta che siano stati assunti dal campione di nuoto e poco fa Magnini ha detto questo è un atto dovuto io sono già stato considerato estraneo domenica anzi sabato sabato 7 ottobre giornata clou per la settimana regionale africana al Pincio di Fano ci sarà la notte nera con musiche, balli ed iniziative per chiudere la manifestazione dedicata al continente africano allora domani per la settimana regionale africana ci sarà un po' il culmine con la notte nera musiche, danze e anche incontri siete pronti? sì siamo pronti abbiamo quasi concluso tutto l'allestimento vi aspettiamo ai giardini del Pincio a partire dalle ore 17 dove appunto saranno allestiti sia i stand delle associazioni e sarà presente uno stand del mangiare etnico e italiano e anche con birra e cose da bere ci saranno ad allietarci sin dal pomeriggio musica, concerti e spettacoli in particolar modo ci sarà il coro gospel i crazy jambe con delle percussioni africane e poi invece da partire dalle 9.30 ci saranno invece i gruppi musicali che ci faranno ballare Sista Island Navigators e poi i rumba i rumba dei bodas che è il gruppo diciamo così un po' più atteso della serata che farà divertire quindi invitiamo tutti giovani e meno giovani a partecipare a questo momento di festa in là ai giardini del Pincio e sarà quindi appunto un momento di gioia e di festa Ecco, la musica è sempre una componente importante del continente africano anche questa sera volendo c'è qualcosa di cui dilezzarsi le orecchie Sì, questa sera è un appuntamento importante e speciale perché alle ore 21 alla Pinacoteca San Domenico ci sarà un concerto per l'Africa si esibiranno 40 ragazzi della Gioacchino Orchestra un'orchestra che è proprio costituita da studenti del Conservatorio e faranno un repertorio di brani ricordando un po' l'America e anche quindi collegandosi un po' al discorso delle migrazioni un concerto bello ad ingresso gratuito chiunque vorrà lasciare un'offerta per i nostri progetti sarà ben gradito però è un'occasione per passare una serata piacevole in centro rischia di cadere su alcune abitazioni del centro abitato di Cantiano un masso di 100 quintali di peso che si è staccato dal fianco del monte il distacco si vede molto bene il masso si trova sotto la rocca di Cantiano e minaccia almeno due case che sono state fatte evacuare anche se sono due seconde abitazioni dove in questo momento non ci sono residenti questa mattina i vigili del fuoco di Cagli hanno fatto un sopralluogo riscontrando l'estrema pericolosità della situazione il masso potrebbe cadere da un momento all'altro e bisogna intervenire il prima possibile installando reti di protezione per poi romperlo e rimuoverlo il distacco può essere stato provocato da infiltrazioni d'acqua c'è la minaccia che altri pezzi più piccoli rimasti sporgenti possano staccarsi e cadere sulle case vicino al masso pericolante c'è anche la strada Flaminia che porta a Roma distanziata solo da un capanno ed un'abitazione ora saranno le autorità a decidere come rimuovere il pericolo ottobre è il mese del tartufo e sabato a Sant'Angelo in Vado inizia la seconda mostra nazionale di quello bianco pregiato un tartufo gigante all'ingresso del paese di 5 metri quadrati toglierà ogni dubbio ai visitatori sul tema della manifestazione una trifola così grande in natura non esiste ci vorrebbe un escavatore per cavarla e non il vanghetto dei tartufai e per l'occasione naturalmente sono stati i maestri carristi fanesi Angera e Vasilic a crearlo ad hoc per la manifestazione il mega tartufone darà così il benvenuto ai visitatori della seconda manifestazione sul tartufo più antica d'Italia arrivata alla sua 54esima edizione domani alle 15 taglio del nastro alla presenza del sindaco Gianalberto Luzzi e delle massime autorità regionali e provinciali e poi espositori commercianti specialità enogastronomiche saranno l'asse portante attorno al quale ruoteranno i tantissimi eventi collaterali messi in il programma sabato tanto per iniziare col piede giusto arriveranno i bikers da tutta Italia per uno dei raduni motociclistici più graditi e oltre a loro ci saranno anche le auto d'epoca e vedranno tutti quanti insieme l'inaugurazione della nuova sede del motoclub spazio anche i bambini che saranno assistiti e distratti dai tanti momenti pensati per loro cuore della manifestazione poi come non citare il parco centrale in piazza Umberto I dove si terranno presentazioni di libri e lezioni di enogastronomia curate dalla scuola alberghiera di Piobico e dove ci saranno anche i cooking show tanto amati dal pubblico dove ospite attesissimo quest'anno arriverà il vincitore di Masterchef Italia Valerio Braschi è tutto tra poco box i personaggi di Fano in cucina con lo chef e poi uno speciale dedicato a Cucurana il 338 4968 come sempre 250 come sempre a vostra disposizione io mi fermo qui grazie per averci seguito e arrivederci a domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti